Il ruolo di ESVA, dalla sua fondazione avvenuta nel 1997, ESVA è l'acronimo di European Single Play Waterproofing Association, quello di promuovere le membrane sintetiche per le impermeabilizzazioni in Europa. L'attività dell'associazione sono orientate allo sviluppo e alla promozione degli aspetti tecnici e normativi in linea con le esigenze del mercato. ESVA, oltre ad essere un interlocutore attivo con l'Unione Europea, contribuisce a una crescente sensibilizzazione della necessità di affidarsi a materiali sintetici per le impermeabilizzazioni che siano resistenti, performanti e soprattutto sostenibili e ci sono diversi esempi a riguardo. Un'impermeabilizzazione realizzata con una membrana sintetica ad alta riflettanza permette alla riduzione delle isole di calore e una maggiore efficienza dei sistemi fotovoltaici. Ancora, le gallerie impermeabilizzate con membrane sintetiche aiutano nella gestione delle falde acquifere. Oppure, basti pensare al tema attuale delle inondazioni avvenute di recente, le membrane sintetiche possono essere impiegate per la realizzazione delle vasche di limonazione che riducono il pericolo di allagamenti. Si potrebbe dire che l'impermeabilizzazione sia solo il primo dei motivi e delle funzioni per cui una membrana sintetica possa essere scelta. Tutti i produttori ESVA sono impegnati nell'offrire soluzioni che uniscono prestazioni e tutela dell'ambiente, degli edifici e delle infrastrutture. Inoltre, tutti i soci ESVA offrono soluzioni certificate IPD, ovvero una dichiarazione ambientale di prodotto, un'ulteriore dimostrazione dell'impegno verso una produzione sempre più sostenibile e trasparente. Siamo soci di ESVA fin dalla sua fondazione, prima come flag, poi come Soprema dopo il 2007. In questi 26 anni abbiamo sempre avuto un ruolo attivo e sinergico con tutti gli altri soci. Un percorso d'eccellenza che culmina oggi con la mia elezione come presidente ESVA, un ruolo di cui sono orgoglioso e dove sarà necessaria una spinta propulsiva a fare sempre meglio nei temi di innovazione e sostenibilità. Il ruolo di Soprema si esprime anche attraverso la carica di Massimo Cunegatti, direttore tecnico Soprema, che presiede il comitato tecnico ESVA in veste di presidente. Un ruolo doppio, quello di Soprema, che ci dà la possibilità di guardare al futuro con responsabilità e capacità innovativa nel mercato delle impermeabilizzazioni con membrane sintetiche.